Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Morir d'amore, morir d'amore. Voi sapete bene che i due momenti fondamentali della vita di tutti noi, da che mondo è il mondo, sono la nascita e la morte. Voi sapete bene in che maniera veniamo al mondo, vero? Poi usciamo da un tunnel oscuro e poi ci mettiamo a piangere, a piangere, alla luce del sole ci mettiamo a piangere, o alla luce del sole o delle lampadine, ci mettiamo a piangere, piangemo per diverso tempo. Quando nasciamo non sappiamo di nascere ancora, non lo sappiamo. Poi dopo l'altro passo è la morte. La morte non si sa, non si sa quando e come viene. e ci sono persone tremendamente sfortunate che impiegano tanti anni per morire, tanti tanti anni, tante sofferenze, per questo che abbiamo paura della morte, perché se la morte venisse così, nel sonno, non ce ne importerebbe niente passare dal sonno alla morte. Ma invece sappiamo che possiamo morire di malattie, di una triste vecchiaia in ospizio, e non è bello questo, non è bello, non ci piace, è naturale che non ci piaccia. Allora, che succede? Perché faccio questo filmato morire d'amore? Perché l'amico blogger BananaSplit234 si è affrettato, si è affrettato a mandarmi il link di un articolo del 13 ottobre 2008, non so se è oggi o se è ieri, non lo so, non lo so, comunque l'articolo è del 13 ottobre 2008 e mi pare che sia apparso sul Corriere della Sera. Sentite un po' il titolo. Uomo muore a casa dell'amante, arriva la moglie e scoppia una rissa stroncato da un infarto. Allora, innanzitutto, e quest'uomo è morto in una maniera meravigliosa, è passato non dal sonno alla morte, ma dal piacere alla morte. E che succede? Succede che, essendo morto in casa dell'amante, l'amante ovviamente si è impaurita, ha chiamato il pronto soccorso e poi sono venuti a sapere appunto che quello lì non stava in casa sua, ma stava in casa dell'amante. Allora hanno cercato la moglie e il figlio e la moglie e il figlio sono arrivati in casa dell'uomo morto e lì è scoppiata una grande rissa tra la moglie e l'amante. Una grande rissa, perché per una moglie non c'è nulla di più disonorevole che si venga a sapere che il proprio marito è morto nel letto di un'altra donna, non è morto nel proprio letto coniugale, perché sarebbe normale che un marito muoia nel letto coniugale, facendo l'amore con la moglie muore e poi la moglie resta una vedova inconsolabile, si veste di nero e va al cimitero a piangere il proprio defunto, ma almeno può dire è morto con me, è morto con me. Invece questa, poverina, l'hanno saputo tutti che il suo marito, anziché morire con lei nel letto coniugale, è morto in un altro letto, nel letto dell'amante. Ora però la notizia è bella, è boccacesca, bella, bella la notizia, ma il fatto singolare, sapete qual è il motivo per cui mi sono deciso a parlare di questa notizia, di questa notizia, e lo ho anche sottolineato, è sempre il famoso incipit, il famoso incipit con cui il cronista inizia l'articolo. Sentite un po' come inizia l'articolo, il cronista, il cronista ha scelto il luogo sbagliato dove morire, due punti, a casa dell'amante, tradito dal cuore a soli 52 anni. Io dico, ma come? Il cronista scrive ha scelto il luogo sbagliato dove morire, a casa dell'amante? Ma come? Si inizia così, si inizia così un articolo di cronaca su un fatto simile? E sarebbe quello lì, il luogo sbagliato dove morire? Ma perché? Qual è il luogo giusto dove morire, caro cronista di cui purtroppo non vedo qua il tuo nome? Non lo vedo il tuo nome. Ma perché? Lo vuoi dire tu ai lettori qual è il luogo giusto dove morire? Quindi è una frase non solo inutile, ma addirittura contraddittoria, inutile, perché lui poteva fare la cronaca senza questo incipit. E poi è sbagliata, è sbagliata perché lui invece, sì è vero che non l'ha scelto lui il luogo, però quello lì era il luogo giusto dove morire. Ma il luogo più bello di quello dove era? È morto in una maniera meravigliosa. Probabilmente non se ne è neanche accorto di morire. In più è passato dal piacere alla morte anziché dal sonno alla morte è meglio di così. Ha scelto il luogo sbagliato dove morire a casa dell'amante ma i problemi saranno della moglie e dell'amante i problemi non certamente suoi. Questo qua ha avuto una morte meravigliosa. Morte più bella non ci potrebbe essere. Una morte come questa se la augurano tutti ma questa morte vale molto di più di tutte le ricchezze del nostro premier Silvio Berlusconi ma morire in questo modo ha un valore inestimabile. Capite cari amici il giornalista ci dà una gran bella notizia di una gran bella morte però cosa va a dire? Che ha scelto il luogo sbagliato dove morire a casa dell'amante lui non ha scelto di morire in casa dell'amante perché il fatto è successo involontariamente però è morto non nella maniera sbagliata ma nella maniera giusta più giusta di così si muore e i problemi sono per la moglie e per l'amante soprattutto per la moglie che ci ha fatto una gran brutta figura che adesso è vedova ma non può manco non può manco 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 andare al cimitero non c'è la motivazione per andare al cimitero a piangere perché il marito non è morto su di lei ma sull'amante e questo è l'affronto più grave che si possa fare a una moglie va bene cari amici cari amici ecco i nostri giornalisti purtroppo perseverano in questi incipit davvero privi di senso ho già parlato di tanti incipit dei giornalisti va bene va bene cari amici ringrazio l'amico blogger BananaSplit234 per queste belle notizie che mi trasmette vi ringrazio se mi avete ascoltato e tanti saluti da Serafino Massoni qui mi ha studiato